Ciao amici di Radio Bruno, sono Fabrizio Fontana alias Capitan Ventosa. Il prossimo 2 giugno sarà la giornata mondiale dei disturbi alimentari. Io vi stimo ed incoraggio a non lasciare solo le persone che soffrono di questa patologia. Io per voi ci sono. Scrivetemi pure sui miei social. Non siete soli.